Ho sempre studiato, questa è la verità, ho sempre cercato di studiare, di studiare sempre che nell'ambito della professione, delle attività, di tutto il resto della mia vita c'era sempre un qualche minuto libero che io ho utilizzato in quel modo. Mi sono iscritto in giurisprudenza e non è finita lì perché concluso la laurea di giurisprudenza la parte letteraria è venuta subito dopo, fino ad arrivare poi alla quattordicesima che ho conseguito nel novembre scorso e come futuro posso solamente dire che il futuro è conseguenza del presente. Che cosa ci aspetta il futuro? Ci aspetta quello che noi vogliamo fare, quello che ci viene chiesto di fare, quello che possiamo fare. Per la verità io ho avuto tutto quello che meritavo, io vorrei qualcosa non per me ma per gli altri. Ho vissuto bene, onestamente, correttamente, ho fatto bene il padre di famiglia, ho fatto bene il medico, ho fatto bene la professione. Per il futuro agli altri non posso fare altro che suggerire le stesse cose. Grazie. Grazie a tutti.